Un successo di partecipazione alla Maratona Città di Ragusa promossa dalla FIDAL in collaborazione con l'ISP. 1200 atleti hanno animato le gare in programma, oltre alla Maratona vera e propria, la mezza maratona denominata Straragusa, il Fitwalking e la Family Run. I blocchi di partenza nella parte alta della città, in via Feliciano Rossitto. Alla gara di Fitwalking ha partecipato anche il sindaco Giuseppe Cassì, oltre ad altri rappresentanti istituzionali di Palazzo dell'Aquila. I risultati? Nella Maratona partita alle 8 si è imposto Sebastiano Foti. Il portacolori dell'Atletico Scuola Lentini ha tagliato il traguardo di Piazza Odierna a Ibla in 2 ore 40 minuti e 57 secondi. Alle sue spalle arrivo in simultanea per due atleti del Marathon Club Sciacca, Alberto Fiera Mosca e Antonio Puccio. Nella gara femminile Lorena Piastra ha bissato il successo della scorsa edizione in 3 ore 20 minuti e 38 secondi, migliorando il tempo di circa 2 minuti. Seconda piazza per l'atleta di casa Flavia Modica, ASD Noal Doping Ragusa, 3 ore 23 minuti e 24 secondi. Mentre sul terzo gradino del podio è salita la bulgara Cristina Nicolova. Ricca di contenuti tecnici, l'Astra Ragusa gara di mezza maratona che ha fatto registrare oltre 500 classificati. Successo finale per Antonino Liuzzo, atletico Augusta Club, davanti al compagno di squadra Ennio Salerno. Tra le donne vittoria per Tatiana Betta, podistica Messina, in 1 ora 24 minuti e 09 secondi, davanti a Valentina Lonigro, Fiamma San Gregorio.